Ho scoperto da Telecina che Onana era un metro e ottanta, che Sommer è più alto e che ci abbiamo guadagnato Con tutto rispetto per Sommer che è un grande portiere Ma io veneroso a Dio che Onana era un metro e ottanta Ragazzi ve l'ho detto, bisogna prenderla un po' a ridere quest'anno Bisogna essere più positivi ma anche più liberi mentalmente Hanno fatto diventare Onana un metro e ottanta Oddio, ce l'ho già nella chiavetta ovviamente perché poi questi cancellano Per fare ma sono tremendi Sarà un project financing Se vuoi la mia opinione su quello La mia sensazione su quello che accadrà tra l'Inter Ed un monumento storico perché di tale si tratta come San Siro Verrà fatto un project financing Una ristrutturazione tipo come quella che hanno fatto a Madrid Menterranno comunque una certa capienza Quindi 40-45 mila mentre ristruttureranno E poi dopo un po' di soldini riprenderanno aumentando di un 20-25% i biglietti L'Inter secondo me rimarrà a San Siro Concessione del comune a 99 anni Quindi poi dopo gli sviluppi commerciali Come ho detto l'altra volta La mia versione è sempre quella Io penso che l'Inter Molto probabilmente rimarrà a San Siro L'Inter non l'abbandona a San Siro Ragazzi E ci sarà una ristrutturazione come hanno fatto a Madrid Visto che è ufficiale Non si può abbattere Conviene al comune Conviene all'Inter Conviene a tutti Poi alla fine vedrete che Per come la vedo io Troveranno poi dopo Una soluzione per far sì che l'Inter possa rimanere a San Siro Sta circolando un nome che ho fatto un mese fa Forse di più Emmanuel Orban Che gioca nel Ghent in Belgio È un animale quel ragazzo È un animale Sottoporta Non è che è cattivo Di più Tecnicamente fortissimo Veloce Emmanuel Orban Ho fatto un mese fa il suo nome Non si era mai sentito da nessuna parte Poi qualcuno lo ha copiato Ovviamente Ragazzi vi faccio un nome Emmanuel Orban Quello non sa nemmeno cos'è una palla da calcio Pensa Se sa chi è Orban Comunque a parte questo Stanno addirittura associando il suo nome A quello di Balogun Che secondo me non è il calciatore che ci serve Te lo ripeto È venuto fuori anche il nome di Tanganga Che con Mourinho giocava al Tottenham Difensore esplosivo Molto forte Però è troppo irruente Un po' indisciplinato Tanticamente Però ecco alle brutte Meglio di nulla Se non c'è nessuno Mi va bene anche Tanganga Io la prendo Sportivamente quest'anno La prendo proprio Alla leggera Non ci sono problemi Avveniamo a noi Coratti Ieri ci ha messo un altro carico Dal 90% Ausilio mi ha detto No non mi interessa Quindi ragazzi Romelu secondo me Indipendentemente dal fatto Che l'Inter Arrivasse o volesse spendere Quei 40 milioni Che secondo me Ufficemente ci sarebbe arrivata Però Sembra che il Belga L'abbia combinata La grossa A questo giro Lo vedremo Quando andrà alla Juve Se andrà alla Juve Cosa riuscirà A A combinare Io continuo a dirvi ragazzi Che a mio avviso Balogun Non è il giocatore Che ci serve Il giocatore Che ci serve È un centro avanti Che sappia riempire l'aria Che sappia giocare Un po' con la squadra Magari Fisicamente messo bene Quello secondo me Il giocatore ci serve Anche perché poi Se devi In queste condizioni qua No economie Se devi prendere Una punta Veloce Agile Che ti salti l'uomo Perché poi alla fine Ragazzi Parliamoci chiaro Ci manca gente Che salta l'uomo Io il 17 Detto Moscio Villetta Non lo conto nel meno Sarebbe quadrato Per chi non lo sapesse Per me il 17 Non esiste Forse Non ci siamo capiti Manca in questa squadra Gente che sappia saltare L'uomo E non c'è Quindi a qui punto Puoi riprendere Sanchez Ho sentito scambio Sanchez-Correa Come dicevo oggi Ma magari Magari ci cascano Manca un centro avanti Ma manca anche Chi salta l'uomo E chi crea superiorità numerica Poi è anche vero C'è un centro campo Molto tecnico Che sa verticalizzare E comunque Vedi abbastanza bene La porta Ragazzi Dal centro campo Quest'anno bisogna Che vengano fuori Almeno una ventina di gol Fra tutti i tre I tre titolari Frattesi Barella Che c'è la Noglu E servono circa 20 gol Perché abbiamo perso Tanti gol Troppi gol Abbiamo perso Personalità E gol Dobbiamo sostituire Circa 30 gol Parliamoci chiaro Almeno 30 gol Quindi serve gente Che la butti dentro Questo Questo Balogun È un ragazzino Che secondo me Gli manca la struttura fisica Gli manca anche Deve migliorare Anche a livello Tattio L'ho studiato Come vi dicevo Nel mio piccolo Nell'ultimo mese Non è il giocatore Ci serve Sì bravo Nei movimenti Partendo da dietro Ai difensori Però ci serve Un centro avanti Capito Occhio alla supposta Zapata Io te lo dico Occhio Ai suppostone Per chi è dietro L'angolo Io Spero di no Ma quello sarebbe Un suppostone Altro che a Cerby A suo tempo Anche a Cerby Ha overperformato Per come la vedo io Era iperstimolato Perché doveva comunque Strappare un contratto Però ragazzi Occhio anche alla difesa Perché sono giocatori Con 180.200 km Però alla fine C'hai un gran centro campo In difesa c'è De Vrij Se non c'è a Cerby Se prendi uno bravo A scappare all'indietro In difesa ce la possiamo fare Insomma era un grande portiere Non è a livelli di Orana Secondo me insomma Ma è un grande portiere Quindi sai Lì c'hai perso Ma non più di tanto Però ragazzi Il centro amante è fondamentale Piero Ascoltami una cosa Vai a prendere Orban Emanuele Orban Con 20-25 milioni Lo prendi Per ora Per ora Se quello Quello lì quest'anno Rifà un campionato Come ha fatto l'anno scorso Ancora meglio Il prossimo anno Vale 60 Pierino Vai a prendere Orban Lascialo stare E ballo con La Eretta Giuse Ciao Inter